Primo round alla IOMI-Salerno, la formazione salernitana vince 28 a 14 al pala San Giacomo di Conversano la gara 1 della serie di finale scudetto, della serie a femminile, centrando nel contempo la sua terza vittoria stagionale contro l'indieco Conversano, campione d'Italia in carica. Potenzialmente il successo è più importante perché il team allenato da Salvo Cardaci ha ora in mano il match point che potrebbe chiudere i giochi già domenica prossima in gara 2 alla pala Palumbo. E cresce a dismisura l'attesa per la sfida di domenica pomeriggio, fischio d'inizio alle ore 18 e 30. Sarà la quinta sfida stagionale tra le due formazioni che hanno dominato il campionato, ingredienti questi che consentiranno sicuramente di assistere all'ennesima partita a Cardiopalma. I numeri parlano di una IOMI-Stellare che ha conquistato in campionato 29 vittorie su 29 partite disputate, miglior difesa del torneo con una media di appena 19 reti subite a partita. E storico record di imbattibilità in campionato battuto con questa striscia di successi, che di fatto ha cancellato quello del Cassano Magnago degli anni d'oro. E come se non bastasse, la IOMI è stata capace di espugnare il campo di Conversano che risultava inviolato dal lontano 2012. Nonostante i numeri parlino chiaro, getta acqua sul fuoco mister Salvo Cardaci che tiene a sottolineare. Non abbiamo ancora vinto nulla e solo domenica sera, al termine dell'ennesima sfida contro Capitan Chiappara e compagni. Sapremo se siamo riusciti in due gare a conquistare lo scudetto.